In questo finale di settimana, l'alta pressione tenta di recuperare terreno sopra l'Italia, riuscendo solo parzialmente nell'intento. L'obiettivo di una stabilizzazione più marcata verrà raggiunto più efficacemente la prossima settimana, con l'espansione dell'anticiclone africano fino ai Balcani e all'Europa orientale. A livello di temperature, queste saranno già in aumento in questo weekend, ma il clou è atteso a partire dalla metà della settimana, con l'arrivo di aria molto calda di matrice subtropicale. Tra mercoledì e sabato, come vediamo anche dalla grafica allegata, il centro-sud sarà investito in pieno da questa ondata di calore, con picchi massimi che potranno raggiungere fini 40-42 grado C. Le regioni di nord-ovest rimarranno ai margini e il caldo sarà meno intenso. Il responsabile è l'anticiclone nord-africano, che nei prossimi giorni si espanderà gradualmente sul Mediterraneo centrale, inglobando la penisola balcanica e toccando anche Austria. Repubblica cieca e Ungheria.